Ed eccoci tornati su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto, oltre che il 100% delle radici, e quindi abbiamo tutto il sottosuolo illuminato, wow, ottenuto anche un pezzo di armatura molto interessante facendo una quest qua, nell'isola Dadelo o Dadelo. Pronuncia, penso sia Dadelo. Così, semplice, Dadelo, pulito, easy. Mentre oggi andiamo a prendere tre armature. Prendiamo l'armatura da minatore, di cui abbiamo già un pezzo, l'armatura da scalata, di cui abbiamo anche già un pezzo, e l'armatura che ci rende completamente antifulmine. L'armatura di plastica, gommata. Non so come definirla, perché non so ancora come si chiama in italiano, perché l'ho ottenuta per questo episodio. Quindi sì, maxi episodio. In realtà, quella che iniziamo a vedere adesso è l'armatura da minatore, ma un pezzo l'abbiamo già ottenuto. Se non mi ricordo male, qua si trovano i pantaloni. Nella miniera della valle Hylia. Qua. Sotto al monte Hylia. Mentre oggi andiamo a prendere la maschera e il sopra. Come vedete ho già segnato i punti in cui si trova. Questa si trova letteralmente sotto il bazar. Mentre questa qua si trova esattamente sotto il monte Daphne. Ok? Ci siamo? Perfetto. Siamo vicinissimi in realtà. Quindi non ho dovuto fare chissà quali manovre, chissà quali robe. Perché tanto... Gli episodi in cui andiamo a prendere le armature sono quelli più semplici e più veloci da... Non dico realizzare. Ma da spiegare. Perché sono delle sorte di guide queste. Sì, lì c'è una fatina, ma ahimè. Non è il nostro interesse. Perché li ho già segnati in mappa? Per una cosa semplicissima, ovvero per comodità. Così chiunque guarda questo video. Miniera della valle del Daphnes. Ok? Chiunque guarda questo video, tra l'altro guarda quanto zonanio. Mamma mia. Chiunque è interessato anche solo un po' allo zonanio qua gode. Un sacco. Tra l'altro sì, le miniere abbandonate sono logicamente come intuibile. Grandi posti ricchissimi per scavare un po' di zonanio, quindi... E questo qua dovrebbe essere... Forse la maschera? No, la corazza. Daminatore. Capo dotato di lampade di varie dimensioni che contengono sostanze bioluminescenti. Si dice che sia stato creato per chi deve eseguire lavori di estrazione in ambienti bui. Adesso inizio già a indossarla, così vedete un attimo come funziona. Ecco qua. Come vedete è molto carina. Ti permette di illuminare ovviamente la zona in cui sei. E quando la uppi a livello 2, tutti quanti i pezzi, fa una sorta di scia. Dove praticamente ti fa vedere in lontananza il primo passo. Ogni tot ti fa vedere un passo che hai percorso. Illuminato. Adesso andiamo a prendere questa qua, che come vedete è letteralmente a fianco. E poi andiamo in superficie a prenderci l'armatura da scalata. E ovviamente anche l'armatura antifulmine. L'armatura antifulmine secondo me è la migliore. Perché a livello 2 ti rende completamente immune, da quello che ho capito, ai fulmini quando piove. Ma i fulmini cadono comunque. Se ti cadono addosso e ti colpiscono, ma non fanno danno a te, ma lo fanno agli altri, è rotta. È da testare. Ecco qua. Facciamo questo. Questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo. Maschera da minatore. Ed ecco qua l'ultimo pezzo. Ta-da! Vi piace? A me piace da morire. A parte che sembri una formichina. Mi fa... Mi fa impazzire questa armatura esteticamente. Troppo bella. Se invece vi interessano i pantaloni, beh, li trovate qua. Cosa che adesso non andrò ovviamente a fare perché... Ehi, già fatto. Appena fatto. Adesso attiviamo questo. Ok. Autorizzazione verificata. Benvenuto, Link. In passato qui si poteva estrarre molto zonani o c'era una raffineria. Il mio compito è occuparmi degli schemi per l'equipaggiamento minerario. Rilevo la mancanza di una lastra schema. Te la fornisco subito. Cosa contiene? Piattaforma attraversabile. Per fare... Ascensus. E preparerò anche i componenti necessari per testare lo schematrix. Ok. Pretty good. Spero che la lastra schema che ti ho dato ti sia utile. Questi sono i materiali. Amico mio... Ah, eccola qua. Vediamo. Ok. In realtà si può fare anche altra roba. Tipo questa. Così tipo. Vediamo se riesco. Non assicuro nulla. No, qua non lo fa fare. Si lo fa fare. Ok, perfetto. Quindi vedete, siamo ancora più in alto rispetto a prima. E siccome è stato fatto... E' stato fatto... Reverto. Non male. Tadà. Era solo per prendere i pu qua sopra. Non male questa lastra schema. Non male. Adesso vado in superficie perché andiamo a prenderci l'armatura da scalata. Però l'armatura da scalata lo stesso. Siamo fortunati perché un pezzo l'abbiamo già preso. Vedete qua? Comunque questa è la parte centrale di Hyrule. Durante il let's play sono andato in questa caverna qua. E ho trovato l'armatura da scalata. Vi ho fatto vedere dove si trovava la parte di sopra. Mentre adesso dobbiamo trovare l'elmo e le scarpe. Ma si trovano vicino al villaggio dell'Izora. Siamo molto fortunati perché una grotta è questa. Mentre l'altra grotta è questa. Quindi siamo... Non comodi. Di più. Questi episodi sono proprio in ciabatte. Dovremmo fare più spesso episodi così belli, semplici, rilassanti. Dove andiamo a fare completismo gratuito. Non ho frecce. Mi sento debole senza le frecce. Mi sento come se mi avessero privato di roba. Allora, la caverna non è questa. Però nel senso... Chi sono io per dire di no a segnare una nuova caverna? Grotta superiore altopiano Zorana. Ok. Almeno l'abbiamo in mappa. Nel caso ci serva per... E lo spettri. Andiamo a prendere qua. Ovviamente ci sono sempre l'oro. Che ci indicano la presenza eventuale di caverne. E la nostra grotta... È questa. Che si chiama in italiano... Passaggio per l'altopiano Zorana. Beh, giustamente. Ecco, vedete? Ci sono esattamente... Questa sorta di... Abbellimenti alle pareti che indicano quindi... Oh, cavolo. Questo qua che tira le pietre non l'avevo ancora trovato, mi sa. Ah, aiuto. Non lo voglio affrontare. Non lo voglio affrontare. E come faccio qua? Come faccio qua? Faccio esattamente come faccio di solito. Gli tiro qualcosa. Funziona? Beh, chiaramente no. Se gli tiro qualcosa di appuntito funziona? No. Non funziona. Aspetta. No, non posso. Mio fratello in Cristo. Come dovrei passare lì? Ah, grande. Bello, mi piace sta cosa. Fallo più spesso. Bombe? È l'unica cosa che mi viene... Ma neanche. Non ho neanche le bombe. Forse posso usare quelle zone a U. Non posso prendere quella parete. Aspetta, eh. Vediamo se funziona. No, ovviamente non si attiva. Perché non funziona così. Prendiamo il ferro e bomba che c'è qua. Proviamo a tirargli questo. Dovrebbe... Ok, funzionare. Perfetto. La bomba a zone a U la lascio lì. Ah, belli gli obroblin. Comodi quando sto andando a prendermi un'armatura. Aiuto. Aiuto. Non so neanche se la strada sia giusta. So solo che sto scappando dagli obroblin. Qua c'è qua? Ci vuole qualcosa di appuntito, vero? Ci vuole qualcosa di appuntito. Questa è l'uscita. Salve. Sono uscito. Molte grotte hanno un'entrata da una parte e un'uscita dall'altra. Invece di essere dei banali, vicoli, ciechi. Aia. Quello l'ho sentito. Amico mio, quello ha fatto male. Proviamo a vedere se ci sono insenature, posti dove entrare e altre robe. Beh, sicuramente qua sopra ci voglio provare a salire. Per analizzare un attimo la situa. Ok, no, non è qua. Aspetta, c'è qualcosa qua? Ho visto male io? No, ho visto male io. Ok. Ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. Per la prima volta possiamo dire ufficialmente che seguendo i nemici sbagli. Ufficiale. Non devi seguire i nemici qua. Qua ci salgo normalmente. Ah. Eh, vabbè però, dai. È fatto apposta. Così rotolano verso qua. Ti odio. Ok, li posso salire. Però Prima di salire... Anzi no, voglio salire lì adesso. Ho un po' la paura. Cado, vero? Cado di brutto. Va bene. Vecchia maniera. Mr. Razzo mi ha permesso di salire. Cosa c'è qua? Ho come l'impressione che se io dovessi fare una cosa del genere qua sopra ci dovrebbe essere un... Niente. No, non c'è niente. Sto salendo troppo. Fuoriasco dalla grotta. Palesemente non c'è nulla. È troppo fuori. Non c'è nulla. E' vero stato bello però mettere un Lionel qua. No, ok, non c'è nulla. C'è soltanto questo scrigno qua. Che adesso attiviamo. Spada Zora. Attacchi più potenti quando è bagnata. Qua sotto penso che sia tipo... Perfetta. Tipo è la spada definitiva. Perché sono... Sono zuppo. Sono bagnatissimo qua. Ok. Abbiamo preso tutto. Possiamo andarcene. Addio. Andiamo con calma perché qua essendo tutto bagnato potrebbe essere un problema. Ok. Oh. Un cavaliere. Gran chipodisti. Ci sono ancora i simboli dei vestiti quindi la strada è corretta. Basta seguire quelli. Lucentini come se piovesse. Raga, io sono un tanto così da disattivare tutti i saggi. Non uno. Tutti. Ok. Perfetto. Vediamo su questo. Ok. Vediamo cosa c'è qua dentro. Niente perché è uno scrigno semplice in legno. Freccia di... Ah. Bella la freccia di legno. Acqua. Molta acqua. Troppa acqua. Boh. Io vado. Ah no, è vero. Se c'è acqua non posso usarla. Big brain. Big brain. Ok. Big brain. Chiaramente non posso. Però qua c'era una piattaforma. Haha. Soprattutto l'acqua è scesa. Sì, dovrebbe essere scesa. Vedo. Vediamo qua cosa c'è. La mia curiosità è gigante. Si sta mettendo troppo tempo. Probabilmente fuori usciamo. Eh, è vero. È vero che fuoriesco. Oh là. Cristo santo. Ho trovato una shortcut per la... La torre. Forse è il viaggio più lungo che abbiamo mai fatto. Oh, bello questo cavaliere. Sì, è il viaggio più lungo che abbiamo mai fatto così. Allora, qua ci ha aperto un po' di percorsi secondari. Opla. Ecco qua il nostro pezzo. Forse dall'altra c'è il rospettro. Adesso vediamo. Ecco qui. Scarpette da scalata. Calzature da rampicata che sfruttano la tecnologia ancestrale. Le punte in materiale anti-civolo aderiscono alle pariti e permettono una scalata agile. Uppandola o ti velocizza ancora di più o diminuisce la stamina che usi. Ta-da. Non è bellissima come armatura. In realtà è abbastanza schippabile, secondo me. Perché oggettivamente c'è molto di meglio. Arrivati a questo punto c'è molto di meglio. Ehm... Rospettro non pervenuto. Temo che sia altrove. Quindi ci toccherà cercare... Aha. Eccolo qua. Easy. Eccolo qua. Emblema! E saliamo a 19. Significa ne abbiamo già fatti 19. Adesso io andrei da qua in alto perché poi ci dobbiamo... Insomma, avventurare lì. Se mi trasferisco col teleport dagli Zora ci mettiamo molto di più secondo me. Ci mettiamo veramente, 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 veramente di più. Quindi. No. Andiamo dall'alto. Dal parco di Mipha. Così facendo siamo in discesa e vediamo molto più agilmente eventuali grotte, caverne. Anche altre, magari, che ho mancato. Insomma, prima o poi dovrò fare tutti i rospettri. Tutti. Ok. La strada dovrebbe essere questa. Ok, eccola lì. Super. E da qui iniziamo a scendere. Qua caverne. Oh, aspetta, c'è questa. Maestro. Ok, me ne fa vedere una qua. Oh, che carina. Anche questa. Come si chiama? Grotta del Monte Tuono. Non dovrebbe però essere la nostra perché appunto non ha gli arazzi. Non gli arazzi, proprio... Le esposizioni di Lambda. Dovrebbe essere roba sua, no? Sì, dovrebbe essere... Dovrebbe essere questa. Menomale che ho l'armatura da Zora, quindi in due secondi risalgo. Ok. Però non vedo appunto... Le cose che dicevo. Esposte. Ah, eccole lì! Ti odio. Oddio. Questa potrebbe essere un po' tosta come caverna. Indovinate cosa sto per fare? Oh mio Dio, sì. No, 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 no. Perché? Perché? Eh, ma tanto non riuscirò mai ad arrampicarmi da qua. Brutta cosa. Potevo fare sicuramente meglio. Però devo un attimo riposarmi per la stamina qua su. Ok. Perfetto. Prendiamo anche i cavernari o luminosi. Allora. Perfetto. Siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo in gioco. Scudo. Perfetto. Perfetto. Pali. Ok. Ce l'abbiamo. Sì. Qua ce la posso fare. È slippery ma ce la si fa. Ok. 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 No. Non ce la si fa manco per sbaglio. Razzo. Perfavore. Credo che mi si stia per rompere lo scudo, vero? Già. Sali, 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 sali. Ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Mio Dio Link. Che infarto. Beh. Armatura da scalata. Dovevamo scalare. Tada. Bandana da scalata. Ecco qua. Tutto quanto l'outfit da scalata. Bruttissimo. Inguardabile. Ok. Però. Ora possiamo scalare veloci. Non lo userò mai. Mai vi dico. E siamo pronti invece per l'ultima armatura dell'episodio di oggi. L'armatura che vi dicevo. Quella che ti rende pressoché immune a eventuali... Lampi. Ecco. Non so se vi ricordate ma c'erano alcuni punti. Di Hyrule dove c'erano appunto queste entrate che lasciavo così. Ecco. Ho segnato comunque i posti dove si trovano. Un pezzo si trova qua. Dove c'è questo ricordo qua. L'altro pezzo si trova nelle terre di Firone. Che fa abbastanza ridere perché sono terre sempre flagellate dai fulmini. E un altro si trova qua vicino tra l'altro all'alto pieno delle origini. Easy vero? Bene. Allora. Siccome non ho grandissime risorse da sprecare. Facciamo così. Usiamo la roba zona U. Ta-da. Ci godo un sacco che ho colpito anche i saggi. Grotta della collina Melodina. Fa molto ridere come nome. Ok. Dovrebbe essere questa. Scopriamolo. Meno male. No. 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 Aspetta. 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 Prima di fare cose avventate. Esploriamo anche dall'altra. Perché sai. Sai. Ogni tanto. Tiè ti ho fatto un regalo. Il golem esplode. Sì. Oh. No. Sì. Eternamente è andata bene. Ok. La spada si sta già per rompere. Che schifo. Ah. Bello. Quando ci sono questi minerali così. Che hanno questo colore un po' sgargiante eccetera. Droppano molto meglio. Droppano moolto meglio. Perfieto. Allora. Adesso ci possiamo tuffare di sotto. Vedere cosa contiene. Codesta grotta. Abbiamo completamente bypassato i nemici. No. È vero che. Non è sicuramente un'arma che fa quello che deve fare quella. Andiamo qua. Scudo reale. Che in realtà. Nah. Non mi interessa. Siamo già armati fino ai denti di sta roba. Aspetta. Possiamo usare l'armatura da scalata per prendere questa armatura. Ok. Basta. No. Lì che lì che roccioso. No. Ok. Aia. Vieni spacca qua. Spacca qua. Spacca qua. Vieni spacca qui. Mi serve qui. Niente. Non ce la fa. No. Si è rotta. Tra l'altro ho rotto quell'altra. Non ci ho fatto caso. Pensavo stessi dicendo che lo scudo si stava rompendo. Oddio. Per essere questa mi aspettavo di meglio. Guarda cosa c'è. Non c'è neanche bisogno di stare a fare chissà cosa. Perché abbiamo la bomba. Vai. Grande esplorazione. Dove dobbiamo passare adesso? Perché non... Devo andare sopra. Mi sta venendo il dubbio. Eh sì infatti devo andare sopra. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Apri la boccuccia. Ok. E tu sei bello gandato. Cosa mi regali? Cosa mi dai di bello? Super parata più otto però. Fa molto ridere. Grazie. Apprezzo. Bene. Amici abbiamo un problema. Che non è un problema. Però è un problema. Aspetta eh. Ok. Il problema era che non avevo bombe. L'ho fatta un po' rischiosa ma ce l'ho fatta. Niente salgema. Che schifo. Vedare è un po' di meglio. Come ti chiami in italiano? Gomma. Completo di gomma. Un utile completo che isola dall'elettricità. È fatto di un materiale di origine ancestrale chiamato gomma. È ormai scomparsa. Questa ve la faccio vedere intera. E vi faccio vedere poi anche cosa chiede per essere uppata. Ok. E qua abbiamo finito. Qual è quello più vicino? Questo. Perché qua abbiamo un teleport a fianco a fianco. Che tra l'altro è più in alto. Perché qua dobbiamo trovarci in una caverna. Che l'ho vista da fuori. Se non mi ricordo male. Ci sono dei gru. Non dei grubin. O broblin. Ho sentito un botto di obroblin. Appena si entra. E nel nostro caso avremo gli obroblin sicuramente blu e viola. Perché in realtà non è che ne abbia affrontati così tanti di obroblin. Ne ho affrontati anche abbastanza pochi. Ho appena notato che ho fatto 44 sacrali. Ce ne mancano 108. Sono male solo al pensiero. Ok. Allora qua però. Ci serve questa. Perfetto. Adesso ci serve questa purtroppo. Ahimè. Devo cambiare armatura. Allora dovrebbe essere qua in mezzo. C'è una cavità proprio. E ci dobbiamo buttare. E lei sì. Eccola qua. Perfetto. Dobbiamo buttare. Tra l'altro dovrebbe essere un po'. Bagnaticcia quindi scivolosa. Eccoli lì gli obroblin. Madonna che fastidiosi. Vabbè tanto non sanno notare. Il problema è che si possono arrampicare i maledetti. Oh è già qui. Ciao. Perfetto. Dimmi che lo droppi. In acqua vero? Eh vabbè. Tanto abbiamo abbastanza stamina. Una grotta in mano a cui pensare. Sì nel caso ve lo state chiedendo. Non sto prendendo tutti i rospettri perché. Ho pensato che rendessero un po' troppo lunga l'esplorazione. Perché ho visto l'episodio per esempio dei draghi che. È un sassorok. O sta scendendo l'acqua. No sta scendendo l'acqua. Te non capivo. Ci arrivo? Secondo me no. Mazza oh so forte. Cado. Vai. Ok. Ce l'ho fatta. Armatura da scalata. In ordine ha senso prendere prima questa. Calza magli di gomma. E anche questi ce li abbiamo. Non c'è altro qua da fare. Bello però che ogni tanto l'acqua scenda. Carino. Mi piace questa feature. E adesso abbiamo. A parte eliminiamo la puntina. Abbiamo l'ultimo. Per l'ultimo io andrei da. Questo è più vicino. Però mi sa che sono più in basso. Vabbè oddio. Qualche modo ce lo si trova. Easy. Subito. Quindi è l'ultimo dei problemi. E niente. Questo è quanto. Adesso andiamo a. Recuperarci l'ultimo pezzo. E abbiamo anche questa armatura. Bello comunque. Veramente. Veramente. Bello. Però l'episodio che per adesso mi è piaciuto di più. Di quelli off topic. Tra questi dopo aver finito Ganondorf. Forse è quello del dungeon. Dello scorso episodio. Sì. Del labirinto. Allora la strada è questa per forza. Dai non sta neanche tro... Beh. Eccolo lì pure. Così giusto per far venire un po' un infarto. La prima volta che li ho visti muoversi gli alberi me lo ricordo come se fosse ieri. Inoltre si è passato quasi già ormai un mese. Un mese da con l'uscita di questo gioco. Ansia. 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 Ok. Facciamo anche ricaricare un po' la stamina. Adesso la sfrutto. Mai cosa fu più giusta della mia idea di cambiare stamina e cuori dalla statua. Cioè l'altro giorno abbiamo fatto l'affare della vita. Switchare. Eccola. C'è anche un goblin... Un boblin nero. Vabbè ignoriamolo. Ok. Madonna. Poca è sto giro. Ed ecco l'ultimo ingresso. Stava per ucciderlo. Oddio adesso... Oddio adesso ho il pallino fisso. Chissà cosa succede... Se gli cade in testa mentre... Oh mio Dio. Vabbè lancia da viandante. Vamos. Grotta della selva Sargeon. Ok. Allora. La grotta è giusta. E non avevamo dubbi. E te pareva che non ci fossero gli amici nostri. In realtà posso anche non usare lo sprint perché è tanto. Allora ho tanta vita eh. È molta difesa. Però ogni tanto... Le sberle le tirano anche loro. Ogni tanto si ricordano che effettivamente sono dei mob. Sì vabbè quanti sono. Come on. Destra vero? Come l'impressione è che è destra. Cos'è questo? Bello. Un tronco. Delle scimmie. Sono letteralmente delle scimmie questi grublin. Ah perfetto. E qua abbiamo finito. Siamo fuggiti come dei ladri. Però... Vi dirò. Oddio ma questa è quella che penso che sia? Ah no ok. Non è una stata stregonesca. Ma quanti colpi gli devo tirare? Non ne vale mai la pena. Non ne vale mai la pena. Lì sì però. Lì ce n'è una che ne vale la pena. Che secondo me questa... Questa forse è la nostra. Vediamo. Zaffiro. Zaffiro non male non male. Madonna oh si sta facendo desiderare quest'ultimo pezzo eh. No non mi devo arrampicare. Tranquillo. C'è anche un leak leak. Non sono proprio il più dei... Il più felice dei felici con le questioni leak leak. Con cosa lo meno? Master Sword. Ok. Via. Cosa ci dropperà? Scrigno che contiene? Arco della concentrazione. Non mi interessa. Questo ahimè ci servirà. Beh aspetta aspetta aspetta. Frecce 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 frecce. Ok prese. Posso salire? Posso salire? No per il gioco non posso salire. Ok. Ora si. Oh c'è anche il rospetro lì. Meno male che ci ha dato le frecce allora. Aspetta. Ok. Mamma mia. Signori chiamatemi il cechino. E siamo a 21. Questa cosa contiene? Ambra e pietra focaglia. Perfetto. E qua abbiamo l'ultimo. Vediamo. Sì. Praticamente sembri un pesce. Sembri letteralmente quello che c'è sopra gli zora. Non è male vero? Questa è carina. Al livello 2. Quando upi tutti quanti i pezzi. Ti dà completamente l'isolamento da elettricità. Diventi completamente invulnerabile. Un utile completo che isola da elettricità. È fatto di un materiale... Ok. Isolamento elettrico. In realtà sì. A livello 2 diventi tipo... Anti fulmine. Completamente. Una cosa del genere. Che non è affatto male. Ma qua? Ok. Mi ha tenuto la... No. Ok. La puntina non me l'ha tenuta. Le posso mettere tutte adesso? Yes. 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 Ok. Abbiamo finito... Tutte quante le armature di questo episodio. Ben tre armature in un singolo episodio. Un bel mi piace. Ve lo merito. Prossimo episodio andiamo a fare uno dei due... Labirinti. Non mancate. Sarà molto divertente. Alla prossima.